Non abbiamo mai parlato di assessori aggiunti o di rimpasti di deleghe, lo afferma il sindaco Massimo Seri che oggi ha chiarito le sue intenzioni sul futuro della giunta fanese. Intanto Renato Claudio Minardi rimarrà alla guida del Consiglio Comunale di Fanno fino all'approvazione del bilancio 2015 prevista a fine giugno o comunque fino a che non verrà individuato il suo successore. Tra i favoriti risultano i nomi del capogruppo del PD Cristian Fanesi e dei consiglieri Rosetta Fulvi, Francesco Torriani e Federico Perini. Minardi inoltre si dimetterà probabilmente anche da consigliere, in tal caso entrerà al suo posto Sergio Del Rico, primo dei non eletti del PD. Intanto il primo cittadino esclude il rimpasto e conferma la fiducia a tutti gli assessori nominati lo scorso anno. Accorgimenti ci possono essere sempre, però ecco diciamo tutta questa forte discussione che vi è stata in questi giorni forse penso sia stata un po' eccessiva. Il sindaco smentisce anche la possibile nomina di un settimo assessore. Io ho letto molti articoli, molte prese di posizioni, però onestamente io non ne ho mai parlato, non ne abbiamo parlato in maggioranza, quindi anche se avrei necessità, devo dire la verità, perché con sé assessore non è semplice seguire tutte le questioni in un momento difficile come quello che stiamo attraversando. Però abbiamo fatto una scelta di sobrietà sin dall'inizio e penso che si debba continuare su questa strada, anche se alcuni assessori hanno un peso eccessivo di deleghe. Seri poi ha voluto esprimere soddisfazione per l'elezione dei consiglieri fanesi eletti in regione. Questo è importante perché porta Fano a svolgere un ruolo importante che non si vedeva da decenni. Ecco questa è la prima soddisfazione che ho come sindaco perché Fano vede tre consiglieri regionali, Renato Claudio Minardi, Boris Rappa e Mirko Carloni, ma io direi anche il sindaco di Mondavio, Talè, perché è proprio qui vicino Fano. Su sette consiglieri regionali quattro sono espressione della nostra città. Questo dà un nuovo peso e un nuovo protagonismo a Fano, ha proseguito il sindaco. Era una delle sfide a cui io puntavo e spero che questo si possa tradurre in risultati per la nostra città. Colgo anche l'occasione per augurare buon lavoro a tutti loro.